Attraverso Attilio Masiero Comunità per la via della conoscenza Attraverso Attilio Masiero vocedellacuete.vegliano.gmail.com a cura di VB Andrea Proviamo perciò a partire da quello che voi oggi ve ne fate della vita. Normalmente, oltre che utilizzare la vita per evolvere per diventare più consapevoli per acquisire nuovi concetti o magari per spogliarvi di quelli vecchi voi cercate di renderla vostra e quando non ci riuscite siete del tutto insoddisfatti perché ve la sentite sfuggire continuamente dalle mani mentre voi pretendete di rinchiuderla nel vostro pugno ma quando è che credete di avere la vita in pugno magari per pochi momenti o per qualche periodo di tempo Partecipante quando mi sento la padrona della vita Andrea no padrona degli altri voi non pretendete di controllare i fatti naturali della vita ben sapendo di non riuscire a farlo più di tanto però pensate di poterlo fare con gli altri e perciò vi sentite la vita in pugno quando pensate di poter avere in pugno gli altri e cioè quando pensate di soddisfare le vostre pretese o quando pensate che tutto sommato padroneggiate non gli avvenimenti naturali ma gli altri quindi padroneggiare la vita significa per voi poter padroneggiare gli altri cioè impedire che gli altri possano alterare la vostra esistenza secondo quei dettami che a voi non piacciono ma anche cercare di piegare gli altri ai vostri desideri o progetti ed infine riuscire a neutralizzare ogni tentativo degli altri di ridurvi a loro quando qualcuno vi pesta i piedi nel tentativo di ridurvi a lui e quindi di piegarvi ai propri bisogni se capite di non potervi sottrarre allora mettete in atto una controreazione che afferma la vostra irriducibilità ma più affermate la vostra irriducibilità più affermate il vostro esserci totalmente inesorabilmente e pienamente in ciascuna azione che fate con tutto il vostro limite il che non va proprio in direzione dell'impersonalità in direzione dell'impersonalità in direzione dell'impersonalità